1, 2, 3, 4 Buon compleanno Enjoy! Dieci anni del programma dance condotto da Tony Delta, il più ascoltato d'Italia. Li festeggiamo all'ex adradisco Nemoli Potenza, quando sabato 15 novembre, il party perfetto! In console il capitano Tony Delta, line up DJ I'll Be Back, live music by Enjoy Team, alla chitarra From Avellino Alex Gagano, alla fisarmonica From Brasile Giuseppe Cubelli, On The Voice Christian Camilletti. Le vostre urla, il battito delle vostre mani saranno in onda su TRM Radio Tour per tutta la notte. Mettiti in lista, prenota il tuo tavolo allo 0973 40050. Festeggia con noi i dieci anni di Enjoy, il party perfetto, sabato 15 novembre, ex adradisco Nemoli Potenza!